L'Osservatorio per il clima dell'Unione Europea, Copernicus, afferma che lunedì è stato il giorno più caldo di sempre a livello globale, battendo il record stabilito appena il giorno prima. Gli scienziati del clima affermano che è plausibile che questo sia stato il giorno più caldo degli ultimi 120.000 anni a causa dei cambiamenti climatici provocati dall'uomo, senza i quali questi record non sarebbero stati superati con la stessa frequenza degli ultimi anni. Le temperature medie non sono state così alte da molto prima che l'uomo sviluppasse l'agricoltura. L'aumento della temperatura negli ultimi decenni è in linea con quanto previsto dagli scienziati. Con l'aumento dell'uso dei combustibili fossili da parte dell'uomo, gli scienziati hanno definito fuori dalla norma il fatto che si siano verificati giorni così caldi per due anni consecutivi. Un altro fattore che ha contribuito alle temperature estreme è stato un inverno antartico, più caldo del solito. Grazie a tutti.